Salve, cosa farà il 13 gennaio? Naturalmente verrà la Notte Nazionale del Liceo Classico, quinto Maseo. Perché consiglia di venire? Consiglia di venire per celebrare con noi la cultura classica, che è la cultura che disegna il nostro volto di oggi e ci consegna parole e significati per il nostro domani. In fondo è la nostra lingua e quella che ci permette di parlare di noi alle persone che incontriamo. Venite!